Di Stefano che se non sbaglio è siciliano ma poi si è formato in qualche modo nella capitale, nel capoluogo Lombardo, che non è capitale ma insomma è certamente la città più importante d'Italia, il suo commento di Stefano se sta un po' più stretto della quarta pelle poi la faccio recuperare sulle altre domande. Sì, non c'è molto da aggiungere onestamente, è chiaro che oggi qualunque italiano avrebbe preferito un altro risultato, purtroppo davanti alla sorte non possiamo avere nessun impegno ulteriore, è andata male, è una battaglia che onestamente anche a livello politico è stata combattuta da tutti e non c'è stata nessuna diatriba politica sulla questione dell'EMA a Milano, quindi avremmo tutti sperato che sia un risultato differente. È andata così e va bene, Milano comunque è una città che riesce e credo che abbia tutte le potenzialità per continuare a farlo, ad attrarre investimenti e capitali in tanti altri modi, quindi è un treno perso ma non è la fine di nulla. Allora ecco, io le chiederei, diciamo così, non tanto di dare un rischio, se vuole può farlo ovviamente, su quello che succede al centro-sinistra, quanto di raccontarci che cosa farà il Movimento 5 Stelle a questo punto, dopo la vittoria di Ostia, che è ovviamente significativa perché erano tanti voti, anche se non è un comune, però insomma ha anche un forte valore simbolico. Quali saranno le vostre prossime mosse? Poi se ci vuole parlare anche di quello che succede a sinistra, volentieri? No, guardi, sinceramente di quello che succede a sinistra mi interessa poco, per un semplice motivo, dopo ormai due anni che si attaccano, che sono spaccati, che non trovano accordo su nulla per quanto riguarda la programmaticità, poi dell'azione di un partito che in questo momento è al governo, a conti fatti, davanti al rischio di arrivare divisi e quindi di non prendere poltrone alle prossime elezioni, stanno cercando in qualche modo di poter convergere. Non mi interessa, io penso a quello che dobbiamo fare noi, credo che il Movimento 5 Stelle abbia già dimostrato, e ora parlano anche i dati, parlano l'ottimo risultato siciliano con il 35% dei voti, parla la netta vittoria di Ostia con il 60% dei voti, ha già dimostrato il Movimento 5 Stelle di essere credibile, forte e avere un programma valido. Significa che i cittadini italiani alle prossime elezioni potranno scegliere, come abbiamo sempre detto, tra un Movimento che può piacere o meno, ma è sincero, vada solo, ha un programma e delle idee chiare, e dall'altra parte una mega accozzaia di partiti che si riuniscono dopo anni di divorzio soltanto per potersi presentare alle prossime elezioni, senza un programma, perché la cosa terrificante non è se staranno insieme o meno a destra o a sinistra, ma che non ci sia nessuno straccio di programma né a destra né a sinistra. Grazie Di Stefano, sentiamo la replica. Noi l'abbiamo presentato, lo stiamo presentando in un tour pure, quindi più di così non si poteva fare, e credo che gli italiani l'abbiano capito. Ma io trovo assolutamente scandaloso continuare a parlare di adeguamento dell'età pensionabile e poi significa sempre alzarlo ancora di più. I cittadini italiani, in generale tutti i cittadini del mondo, non è che lavorano per poter poi vivere 5 anni con la pensione che dà lo Stato, lavorano per garantirsi una vecchiaia serena. Vecchiaia che dalla legge Fornero, anche con le politiche del PD che appoggiò quel governo, è sempre stata ostaggio della politica. Io mi chiedo com'è che tutti gli adeguamenti di bilancio li debbano pagare i cittadini e la politica mai, nella politica non si fa mai spending review, non è stato tagliato il vitalizio dei deputati e dei senatori, l'età pensionabile per i deputati e i senatori è ancora 65 anni, perché ci va a quell'età, addirittura si può andare a 60. Prima di chiedere sacrifici agli italiani è la politica che deve dare il buon esempio, motivo per il quale noi parliamo sempre di taglio dei nostri stipendi e di tutto quello che abbiamo fatto in tal senso. La politica deve dare l'esempio e quella di Gentiloni è una frase che si potrà tenere per sé, sinceramente. Molte grazie a Mario Di Stefano, Movimento 5 Stelle.